Ciao, ciao. Danielone. Che è arrivato da cancio. Braga, non vuole fare il video? Grazie. Eh Braga. Tanti. Tranquilla tu. Tranquilla tu. Tranquilla tu. Tranquilla tu. Tranquilla tu. Che folle. C'è la volta di scende come quando di giocato. Mamma mia che folle che è. Ma si fa parte di me. Mamma mia. Tranquilla tu. Tranquilla tu. Tranquilla tu. Buongiorno a tutti, buongiorno.